Ben ritrovati a un nuovo approfondimento curato da ilmeteo.it. Un vortice mediterraneo è in formazione in queste ore sull'Italia e quantomeno fino al prossimo weekend condizionerà il tempo sul nostro paese. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà. La bassa pressione si posizionerà qui, vedete, sul basso tirreno provocando un intenso maltempo con piogge e temporali diffusi sulla Sardegna anche con rischio di locali nubi fragi sull'isola. Sarà molto instabile e a tratti perturbato anche sul resto del territorio nazionale, in particolare al nord-ovest e al centro con possibilità di fenomeni violenti sul medio versante adriatico. Fenomeni a carattere sparso inoltre sulle regioni nord-orientali e su quelle meridionali in genere Sicilia compresa. Uno sguardo infine alle temperature dopo un drastico calo avvenuto sul finire del ponte del primo maggio, esse saranno in ripresa con valori in lieve ma graduale aumento. Ascesa più marcata nel prossimo fine settimana. Per ora è tutto, sulla nostra pagina Facebook e sul sito ilmeteo.it troverete ulteriori aggiornamenti. Arrivederci!